Benvenuti al TG regionale di Toscana TV. Iniziamo dal racconto di Mike Oko, il giovane nigeriano che lunedì scorso è stato aggredito nel sottopasso delle cure a Firenze da due uomini incappucciati. Con lui ha parlato la nostra Rachele Campi. Lunedì mattina intorno alle 10.30 qui nel sottopasso delle cure a Firenze è stato aggredito Mike Oko, un giovane ragazzo di 28 anni di origini nigeriane è stato picchiato con dei pugni al volto e al torace da due uomini incappucciati. Il ragazzo adesso si trova qua, sta meglio, si sta riprendendo da questa brutta aggressione. Noi siamo venuti a conoscerlo e quello che ci ha colpito è che questo ragazzo conosce veramente tantissime persone che passano qui da questo sottopasso e hanno manifestato a lui una grande solidarietà. Lei conosce Mike, un bravo ragazzo, è stato aggredito qua nel sottopasso. Sì, sì, è stato aggredito, sì. Le persone come Mike dice sono a rischio? Sì. Sono sole secondo lei? Sono sole. Questa signora si è fermata da te, ti ha salutato, ha detto che hai un buon carattere. Ci racconti che cosa è successo il giorno dell'aggressione? Lunedì scorso io ci sei qua e ho visto due persone e passare, è fermo qua. Però loro guardare io brutto, la loro forma così, guardare io brutto, io ho detto cosa vuoi? Subito loro un po' scassato io, poi un po' scattato. Poi un'oppressione, un italiano, anche chiama le polizie a loro un po' e scappare. È uno dei migliori, educato, gentile, tranquillo, sempre che sorride, lo saluti tranquillamente. Cosa ne pensa appunto dell'aggressione che ha subito? Assurda. Vedo che qui insomma hai salutato tanta gente, eccetera. Sì, tante persone. Sono venuti da te? Sì, tante persone. Io sono contento per loro, anche tante persone, piazza di cura, tanti, tanti molto gentili. Io sono contento per loro. Ho visto, io sono contento, ho visto. Senti, ma hai paura di restare qua? Però sì, ho la paura perché io ho paura perché in futuro anche loro vengono, anche Cotello, però per me ho paura così. Da quanto sei in Italia? Sono in Italia da sette anni. Da sette anni? Sì. Ma hai mai subito episodi di razzismo? C'è, c'è, c'è. Lo vedo nella strada perché vedi tante persone nella strada. La loro faccia vuol dire che loro non sono persone bravi, sono persone che vivono con il loro cuore un po' di razzismo. Ma avete paura di vivere a Firenze? Sì, sì, certo, certo. Perché sentire quelle cose che fanno così non è una cosa normale. Oh, fra. Come stai? Ok, va bene. Loro un po' sta bene. Mi piace qua. Che cosa speri per il tuo futuro? Però speriamo. Ora io ce la documento, per ora speriamo di lavorare. Speriamo di lavorare, hai visto? Sì, di lavorare. Grazie a me. Per sabato a Firenze è stata indetta una manifestazione contro il razzismo sul ponte Vespucci dove fu ucciso Idi Diene Pape Diò, attivista per i diritti, dice proprio. Ripartiamo da Idi. Tutti queste cose qui sono molto preoccupanti. Però già il fatto di dover assegnare una scotta alla signora Elia La Segre vuol dire che avevamo toccato il punto di non ritorno. Ormai l'ondata di razzismo, antisemitismo, tocca anche noi in Toscana. È innegabile. Non dobbiamo più minimizzare. Più che altro, oggi come oggi, dobbiamo cominciare a domandarsi che cose dobbiamo fare per contrastare questa ondata. Questa è la domanda che mi pongo. Perché i segnali ogni giorno ce n'è. Ma anche qui, proprio, una signora che abita qui dietro, per dire che i segnali sono tanti. Allora io penso che è arrivato il momento della società civile insieme alla politica, perché ricordiamoci che è una battaglia che ne riguarda solo la politica, la scuola, tutti noi, per lavorare sulle differenze rispetto dell'altro. Io penso che occorre buttarsi tutti su quella strada perché star lì soltanto a denunciare che c'è il razzismo, però se non si fa nulla vuol dire che vogliamo perpetrare il clima che c'è. Occorre reagire in modo positivo perché se no rischiamo di trovarci in una situazione abbastanza esplosiva e in questo momento c'è una grandissima paura nel mondo dei migranti. Proprio per questo è stata indetta una manifestazione sabato prossimo alle ore 15 a Firenze. Tutte le reassociazioni, tutte le realtà insieme, l'associazione dei senegalesi l'hanno organizzato insieme. Quindi ne approfittiamo per invitare tutti a questo. Dovrebbe essere l'inizio di una mobilitazione, non può essere andare lì e finire. Che sia all'inizio fino al 13 di dicembre o quando vogliamo noi, per cercare di arginare questa ondata di razzismo e antisemitismo che sono molto pericolosi. La manifestazione non avverrà in un luogo a caso, avverrà sul Ponte Vespucci lì dove è stato ucciso Ididiene. Sì, proprio come luogo simbolico e poi come sappiamo anche qualche giorno fa è stata proprio imbrattata la targa che i cittadini gli avevano dedicato. Quindi ragioni in più, già lui è stato ammazzato su quel ponte in modo molto brutale e poi la targa. Quindi ripartiamo per chiederci che cosa sta accadendo e cosa possiamo fare. Però per riuscirci lo dobbiamo fare tutti insieme, ecco perché la manifestazione di sabato è importante. Quindi invitiamo tutti a partecipare. Sono agli arresti domiciliari nella loro abitazione di Sovicilla in provincia di Siena e domani compariranno davanti al GIP di Siena per l'udienza di convalida Andrea Chesi e il figlio Iuri. Arrestati il 12 novembre per detenzione illecita di esplosivi e parti di ordini della seconda guerra mondiale nell'ambito di un'inchiesta della DDA di Firenze su un gruppo di estremisti di destra attivo nel Senese. Bloccati su un'auto rubata, feriscono due carabinieri con un cacciavite. Succede a Prato, catturati tre pregiudicati che secondo gli investigatori si preparavano a compiere furti negli appartamenti. Nadia Tarantino Puntavano forse a compiere furti in appartamento i tre pregiudicati arrestati dai carabinieri di Prato nella serata di ieri, subito dopo aver tentato di rubare un'auto. I tre, due serbi e un croato, 38, 40 e 41 anni, non si sono lasciati intimorire dall'intervento dei carabinieri e anzi ne hanno aggrediti e feriti due con un cacciavite. Un'operazione lampo, quella che ha portato in carcere i tre uomini, tutti domiciliati a Vicenza ma di fatto senza fissa dimora, già segnalati nei giorni scorsi a Prato e con una fisionomia corrispondente a quella descritta dalle vittime degli ultimi furti in abitazione. I carabinieri si sono mossi dopo aver ricevuto la segnalazione del furto di un'auto in via Zarini. La macchina, grazie al sistema satellitare, è stata intercettata a Mezzana. Al momento in cui sono stati individuati, nel tentativo di bloccarli, hanno posto una forte resistenza. Addirittura con un cacciavite hanno colpito due militari che hanno riportato alcuni giorni di prognosi. Poi hanno ingaggiato una fuga per tutte le vie cittadine. Fortunatamente avevamo molte macchine sul territorio, grazie poi all'ausilio anche della polizia siamo riusciti a bloccarli e a trarli tutti in arresto. Forte il sospetto che i tre siano specializzati in furti in appartamento e non è escluso che possano avere agito negli ultimi giorni in città. Una delle macchine su cui viaggiavano era stata segnalata in prossimità di alcuni furti in abitazione nei giorni scorsi, così come ci erano stati descritti dei soggetti che per sembianze potrebbero essere quelli fermati ieri sera. All'interno della macchina abbiamo trovato anche attrezzi da scaso, tra cui un grosso piede di porco e nei furti per i quali abbiamo proceduto c'erano state anche delle finestre con le inferiate forzate, quindi tutto fa pensare che il loro vero intento fosse quello di commettere dei furti in abitazione. I tre, che hanno precedenti per furto e ricettazione, sono accusati di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Solo il croato deve rispondere anche di tentato omicidio, imputazione che però potrebbe venire ridimensionata in lesioni gravi nel corso dell'udienza per la convalida degli arresti. Le indagini dei carabinieri continuano sotto il coordinamento del sostituto Giampaolo Mocetti. Cercheremo di sviluppare tutti gli elementi che abbiamo. Credo che anche dalle foto distribuite, se qualcuno avesse riconosciuto i soggetti, in occasione di qualche furto in abitazione, si può far vivo presso le nostre caserme e renderci delle eventuali dichiarazioni. A Pistoia operazione dei NAS, si tratta degli antidepressivi. Per dimagrire è stato arrestato un medico, servizio di Patrizio Ceccarelli. Farmaci ansiolitici, antidepressivi e ormoni tiroidei prescritti come cura dimagrante. Questa l'accusa per la quale un medico di Torino, con studio nel capoluogo piemontese e anche a Pistoia, specializzato in scienza dell'alimentazione a indirizzo dietologico e dietoterapico, è stato arrestato dai carabinieri del NAS di Firenze, in esecuzione di una misura di custodia cautelare agli arresti domiciliari disposta dal GIP di Pistoia. L'indagine è stata avviata nel gennaio 2019, quando nel corso di una verifica ispettiva in una farmacia a Pistoia, i militari del NAS hanno sequestrato centinaia di ricette con prescrizioni di farmaci, il cui impiego è vietato per scopi dimagranti e tutte a firma del medico torinese poi arrestato. In particolare, secondo quanto accertato, tra il 2017 e il 2018, il medico aveva compilato per pazienti che si erano a lui rivolti per perdere peso centinaia di ricette con diverse tipologie di farmaci ad azione stupefacente e psicotropa sotto forma di preparazioni magistrali da allestire in farmacia. L'utilizzo di queste sostanze è vietato per scopi dimagranti, pertanto, ricostruisce il NAS, il medico avrebbe attestato falsamente che le prescrizioni fossero per curare altre patologie tipo depressione e ansia. Nell'inchiesta sono coinvolte anche la titolare e una dipendente di una farmacia di Pistoia situata a breve distanza dallo studio medico. Entrambe sono state sottoposte alla misura dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. E a Firenze la Guardia di Finanza ha denunciato nove persone dopo aver scoperto una bisca in un bar a Quaracchi. Il servizio è di Chiara Valentini. È stato l'anomalo assembramento di persone in un locale sul retro di un bar, intravisto durante la quotidiana attività di controllo del territorio, a far insospettire le fiamme gialle, che hanno messo sotto controllo il locale di Quaracchi, alla periferia nord di Firenze, dove effettivamente si giocava d'azzardo in una vera e propria bisca. La Guardia di Finanza ha denunciato otto cinesi mentre puntavano denaro e il titolare del locale per esercizio del gioco d'azzardo ha gravato dall'aver istituito una casa da gioco in un pubblico esercizio. Alla vista dei finanzieri, i giocatori, impegnati soprattutto a Mahjong su tre tavoli, hanno cercato di nascondere il denaro e di allontanarsi velocemente. Sono stati però fermati e controllati e sono stati trovati in possesso di 6.500 euro in contanti e un assegno bancario. Tutto è stato sottoposto a sequestro insieme all'attrezzatura usata per il gioco d'azzardo, tra cui i mazzi di carte, fisch e dadi. Indagini sono in corso per accertare la provenienza del denaro. E a Pistoia è stato arrestato un spacciatore che operava nei parchi vicino alle scuole cittadine. Patrizio Ceccarelli. Un 26enne, cittadino marocchino, residente a Montemurlo in provincia di Prato, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Pistoia, è stato arrestato nel tardo pomeriggio di ieri dalla squadra mobile di Pistoia per spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini sono iniziate nel luglio scorso dopo l'arresto di un altro cittadino marocchino, 25enne, residente ad Aliana, in provincia di Pistoia, trovato in possesso di circa 700 grammi di hashish, 25 grammi di cocaina, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Il 26enne arrestato ieri è ritenuto il destinatario finale dello stupefacente sequestrato all'epoca. L'arresto è avvenuto durante uno dei controlli decisi dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica della Prefettura di Pistoia su direttiva del Ministero dell'Interno per contrastare il fenomeno dello spaccio in strada, nei parchi pubblici e in prossimità delle scuole. Il 26enne si trova ora nel carcere di Pistoia a disposizione dell'autorità giudiziaria. Coperti e denunciati a Firenze due cinesi di 49 e 50 anni abitanti a Prato, mentre nella zona di Rovezzano scaricavano illegalmente 27 sacchi con scarti industriali testili del peso di 50 kg ciascuno da un furgone. È successo verso le tre in via Retina e controlli sono scattati dopo le segnalazioni dei residenti che da tempo lamentavano di trovare i cassonetti della zona pieni di materiale testile di scarto. E lasciamo la cronaca, veniamo alla politica. L'intervista di Matteo Renzi alla stampa scatena le reazioni del governatore della Toscana, Enrico Rossi, che su Facebook scrive il popolo di sinistra non si farà fregare due volte da Renzi. Non le manda a dire il governatore della Toscana, Enrico Rossi, su Facebook al leader di Italia Viva dopo l'intervista di Renzi alla stampa. Così chiosa un post scritto sul social network. Popolo di sinistra non si fa fregare due volte da Renzi, è stato sindaco, segretario e premier con i voti dei comunisti. Che gli abbiamo fatto? Il post era già chiaro, senza le ulteriori spiegazioni nella titolazione. Ecco quanto ha scritto Enrico Rossi. Faremo al PD ciò che Macron ha fatto ai socialisti francesi, dice Matteo Renzi. Cioè, continua Rossi, le ha ridotti all'umicino. Ora, noi sapevamo che Renzi non è mai stato di sinistra, dice Enrico Rossi. Ma viene spontaneo chiedersi cosa gli abbia mai fatto di tanto negativo alla sinistra, già che con i voti di molti comunisti ha fatto prima il sindaco di Firenze, poi il segretario del partito e quindi il premier. Conforta il fatto, dice ancora Enrico Rossi, che ormai è ben conosciuto dal popolo di sinistra e che per una volta può accadere di essere fregati, ma non per due. Quanto questo post possa incidere nel dialogo in corso per la costruzione della coalizione di centro-sinistra a sostegno del candidato alla presidenza della regione è tutto da capire. Pochi giorni fa, un incontro tra Italia Viva, Partito Democratico e l'EU, era stato definito incoraggiante dal consigliere regionale Stefano Scaramelli, ex Partito Democratico, ora transitato in Italia Viva insieme all'altra consigliere regionale Titta Meucci e all'assessore Stefania Saccardi. Il post di Enrico Rossi, in reazione all'intervista di Matteo Renzi, dimostra che tanta strada resta ancora da percorrere, anche soltanto per intendersi. E torniamo all'inaugurazione del Consolato Onorario di Israele a Firenze, Consolato Onorario affidato a Marco Carrai. Ieri all'inaugurazione c'era anche Matteo Salvini e la presenza del leader della Lega un po' oscurato e tutto il resto. Vediamo adesso il servizio di Chiara Valentini. È in via della spada, nel pieno centro di Firenze, il Consolato Onorario di Israele per Toscana, Emilia Romagna e Lombardia. A Firenze spiega il neoconsole Marco Carrai che è anche il presidente di Toscana Aeroporti perché qui c'è una bella comunità ebraica, una sinagoga e un centro culturale e religioso molto forte. E poi perché sono forti i legami tra lo Stato di Israele e Carrai che sottolinea. Sono tre regioni altamente di produzione manufatturiera. Israele è una fuscina di innovazione e di tecnologia. Pensiamo a tutta l'industria 4.0, a tutto quello che sono i settori della sicurezza. Io penso che potremmo aiutare a sviluppare rapporti profittevoli economici. L'apertura del Consolato ha richiamato un'attenzione particolare della stampa soprattutto per la presenza di Matteo Salvini invitato dallo stesso Carrai così come gli altri segretari di partito assenti per altri impegni. Ancora fresche infatti le polemiche relative al caso Segre, cui l'ambasciatore di Israele presente all'inaugurazione ha voluto esprimere tutta la sua solidarietà per i messaggi di odio che hanno portato il ministro dell'interno a decidere di affidarle una scorta. Liliana Segre è una donna incredibile, un modello per tutti. È molto coraggiosa e non credo che qualche centinaia di hooligans potranno spezzarla. Non ci sono riusciti i nazisti, non ci riuscirà nessuno. Ma cosa dirà Salvini che non ha applaudito Liliana Segre e non ha votato la commissione contro i discorsi d'odio? Non lo so, adesso devo entrare e pensare alla domanda che mi ha fatto, taglia corto l'ambasciatore. Quanto a Salvini la sua presenza qui significa che ha fatto pace con il giglio magico, gli chiedono. Con Carai ho parlato di aeroporto perché Firenze ha bisogno di viaggiare di più e meglio, però sono qua per Israele, non per altro. Ciò che mi ha portato qui è saper dividere i miei ruoli. Oggi non era il momento di parlare di aeroporti. A me non sta il compito di fare politica. Io dico solamente che oggi è stata una bella giornata perché anche il senatore Salvini ha voluto testimoniare che bisogna andare oltre le polemiche, bisogna pacificare e come dire, lo Stato di Israele chiede questo, chiede pace. C'è l'allerta a meteo arancione emesso dalla regione toscana appunto per il maltempo e quindi scuole chiuse in alcuni comuni a Grosseto, a Manciano, Magliano, Orbetello, Capalbio, Monte Argentario, Scarlino, Isola del Giglio, tutto in provincia di Grosseto, anche Scanzano, sempre in provincia di Grosseto. Studenti a casa, anche a Piombino, in provincia di Livorno, a Cecina e Colle. Salvetti. C'è un preoccupante picco di tumori a Casalguidi nel Pistoiese, sette casi sotto osservazione. Il servizio è di Patrizio Ceccarelli. Un picco tumorale segnalato al Dipartimento Prevenzione della USL Toscana Centro riguarda il paese di Casalguidi in provincia di Pistoia, dove dalla seconda metà del 2017 sono sotto osservazione sette casi di sarcomi dei tessuti molli concentrati in particolare in due centri abitati, lo stesso Casalguidi e la diacente Cantagrillo, popolazione di circa 6.500 abitanti. È quanto evidenzia l'ordine dei medici di Pistoia dopo una riunione che ha preso in esame la situazione, sottolineando che si parla di un cluster, perché l'incidenza di questo particolare tipo di tumore risulta superiore di quasi 3,5 volte alla norma. La media statistica è di 2-3 casi all'anno su 100.000 abitanti. Inoltre, nella stessa area geografica risulta un ottavo caso risalente al 2006, ma non più considerato oggetto di studio attuale. A una riunione che ha esaminato la situazione di Casalguidi hanno partecipato una ventina di medici di medicina generale e pediatri operanti nei territori circostanti Montale, Agliana, Quarrata, Serravalle Pistoiese e Monsummano. Oltre al direttore del Dipartimento Prevenzione della USLA Toscana Centro Renzo Berti e al direttore del Dipartimento di Epidemiologia della USLA Toscana Centro Francesco Cipriani. La situazione è abbastanza complessa, spiega il Presidente dell'Ordine dei Medici di Pistoia Beppino Montalti e noi non abbiamo le certezze espresse da alcuni, ma cerchiamo innanzitutto di approfondire le rilevazioni con dati quanto più certi possibili, partendo dalle segnalazioni dei colleghi del territorio. Il confronto cerca di trovare anche un metodo comune per affrontare questa situazione. Quello che possiamo fare è incalzare l'ISPRO, Istituto per lo Studio, la Prevenzione, la Rete Oncologica e l'ARPAT nel completamento delle loro analisi già avviate, potendo contare su un ampio archivio dati di riferimento come quello dell'ISPRO. Sull'argomento prosegue Montalti, manterremo costante il contatto a doppio filo sia con i medici del territorio che con i nostri referenti regionali. Inoltre, i medici potenzieranno i contatti con le famiglie assistite per recepire maggiori indicazioni possibili. E ci sono dati epidemiologici preoccupanti che vengono anche dal Pisano, una rilevazione del CNR in alcune zone appunto del Pisano più 152% di mortalità per alcune malattie. Il servizio è di Giulio Lacaridi. Un eccesso di mortalità per malattie respiratorie tra i residenti di alcune zone della città rispetto a chi abita in altre. Lo rivela uno studio del CNR insieme all'Istituto di Fisiologia Clinica sugli effetti dell'inquinamento atmosferico a Pisa. Il CNR, tra l'altro, dopo aver elaborato una prima ricerca, sta facendo partire una seconda indagine su incarico della Direzione Ambiente e dell'Assessorato all'Ambiente del Comune di Pisa. Obiettivo? effettuare un approfondimento sull'impatto congiunto sulla salute del rumore e dell'inquinamento atmosferico. In particolare, il CNR di Pisa ha valutato più di 132.000 residenti dal 2001 al 2014 ed è risultato che per i residenti nell'area con più alta concentrazione di ossidi di azoto rispetto a quelli residenti nell'area meno impattata, è emerso un eccesso del 10% di mortalità per tutte le cause e del 21% per malattie cardiovascolari tra gli uomini e un eccesso di mortalità per malattie respiratorie acute più 152% tra le donne mentre i decessi per leucemie e linfomi sono risultati in eccesso in entrambi i sessi. Inoltre, l'analisi dei ricoveri in ospedale ha fornito segnali critici sui tumori ematologici nei maschi e i risultati ottenuti sono coerenti con precedenti evidenze maturate in studi sulla salute di popolazioni residenti intorno a inceneritori e più in generale esposti a inquinamento dell'aria. Bene, con questo servizio si chiude il nostro Tg regionale grazie a chi ci ha seguito e buona serata. grazie a chi ci ha